Lucca Svelata e Lucca Stories e Tales. Sono questi i titoli delle due serie podcast curate dalla scuola IMT Altistudi e suddivise rispettivamente da 6 e 8 episodi presentate a Villa Guinizia a Lucca, alla presenza dell'assessore al turismo lucchese Remo Santini, Luisa Berretti, direttrice Musei Nazionali di Lucca e Alessandro Poggio, ricercatore di archeologia presso la scuola IMT Altistudi. Il progetto podcast ha avuto due principali scopi. Uno formativo, quindi dare agli allievi e alle allieve della scuola IMT competenze in ambito della comunicazione e disseminazione. L'altro scopo invece è quello di rafforzare i rapporti con il territorio e quindi l'accordo con il comune di Lucca va proprio in questo senso. I podcast propongono percorsi e sguardi sul patrimonio culturale e naturale della città di Lucca, dentro e fuori le mura. In ciascuna serie, inoltre, è previsto un episodio dedicato a bambine e bambini. Saranno caricati sul sito turismo.lucca.it un arricchimento importante e una collaborazione veramente prestigiosa con IMT, destinata ai visitatori italiani e stranieri, ma anche lucchesi, che secondo noi devono scoprire ancora di più le loro bellezze attraverso questi racconti. Quindi un passo decisivo verso il segmento della qualità nel turismo che vogliamo raggiungere in breve tempo.